E rieccoci alle parole, è il momento di collegarci con Giovanna Botteri. Ciao Giovanna. Ciao, allora io oggi ho bisogno non solo del mappamondo, ma della macchina del tempo. Il mappamondo perché ti porto qui a Londra, a Chelsea, King's Road, macchina del tempo, perché boom, torniamo indietro, negli Swingin' Sisters. Sono gli anni in cui, attenzione, in America beat generation emettono i fiori nei loro cannoni e qui a Liverpool quattro ragazzi si fanno crescere, i capelli suonano nel garage e si fanno chiamare i Beatles e a King's Road una ragazza figlia di insegnanti precisissimi che si chiama Mary, Mary Quant, apre con suo marito che è un nobile inglese un negozio di vestiti e decide di vestire le ragazze che non ne possono più degli abiti attillati delle mamme perché le ragazze devono vestirsi diverse. E come sono queste ragazze? Nella Swingin' London sono le ragazze con la minigonna. Mary Quant, boom, spacca tutto e inventa la minigonna. Ma non solo, una minigonna con quei bei stivali in PVC, lucidi, gialli, rossi di tutti i colori, grandi eyeliner sugli occhi, il bob, il caschetto e naturalmente le lentigini false. Questa è Mary Quant, la ragazza che rivoluziona la moda. Qui attorno c'è qualcuno tipo Courage che dice l'ho inventata io la minigonna, ma a tutti quanti Mary Quant, che ci ha lasciato a 93 anni dopo una vita meravigliosa, ha detto semplicemente che quel modo di vestirsi che spaccava tutto con la tradizione non l'ha inventato lei, non l'ha inventato Courage, ma era nell'aria. Giovanna, te la ricordi la tua prima minigonna? Cosa hai rappresentato proprio a livello di affermazione in qualche modo, di uno status? Allora, la mia prima minigonna era un misto, perché era una gonna scozzese, che era il kilt, che le brave ragazze avevano il kilt, però era mini. Uguale. E tu Elena? Anche la mia è uguale, anche la mia era un kilt, un mini kilt, ma io credo che ancora di me se la ricordi mia madre, la mia prima minigonna. Ma se la ricordi come un incubo oppure... Ma che ne so, perché forse quello che non si riesce a rendere di quegli anni formidabili è che non c'era nessuna malizia, nessuna morbosità, era festa, era gioia, era veramente libertà. Era una cosa... la minigonna era una roba pura, non aveva nessuna connotazione peccaminosa, era proprio la gioia di vivere. Mentre tu parli, c'è un'immagine meravigliosa di una signora di una certa età che guarda una ragazza in minigonna ma con uno sguardo perplesso. Tu vera e ricordi la tua prima minigonna? Sì, erano pochi centimetri di jeans, di gonna jeans, mi ricordo che veramente era molto corta e mi ricordo che mia madre non era felicita. Esci così, se ti chini si vedono le mutande, va pazienza, però era un grande momento di libertà. No, mi sono girato per chiederti, però invece ti chiedo un'altra cosa, la chiedo a tutti. Ricordate, è vero o no Giovanna? Cioè la minigonna, oltre ad essere un grande simbolo di libertà, a me dispiace ricordare che ancora negli ultimi anni, in varie sentenze, viene citata come quasi elemento attenuante di atti di violenza. È una cosa inaudita, inaudita, che ci sia ancora dei giudici, di magistrati in questo paese che possano ritenere che il numero di centimetri di una gonna possa essere provocatorio. Giovanna? Perché Mary Quant ha capito subito che la rivolta si giocava su quei centimetri quadrati di stoffa. Tu pensa alle iraniane, la rivolta si gioca ancora sui centimetri quadrati di stoffa. Il potere sulla donna, sul corpo della donna, si gioca su quei centimetri quadrati. Quindi è toglierli via, tenerli, è una sfida ancora adesso. Giovanna, tu ti ricordi la prima minigonna nella storia della RAI, della televisione, che fece? E' bella, quale fu? No, non sono preparata. La possiamo vedere, Christian? Mike Buongiorno, Mike Buongiorno, lui personalmente. Sabina Ciuffini, la famosa Sabina Ciuffini, che andò in onda con la minigonna. Ah, è vero, era tanto carina, era una delizia. E Mike Buongiorno che la osservava, diciamo, un po' come quella signora osservava prima. Eccolo lì, sono le prime immagini con la Ciuffini. Era l'inizio di un altro mondo, no, Giovanna? Era l'inizio di un altro mondo. Adesso a me fa buffissimo perché la first lady francese, Brigitte Macron, è sempre in minigonna. E c'è la doppia sfida. Perché la minigonna? Non ce l'ha la ragazzetta in berbe e tutto così. No, ce l'ha una signora di 60 e passa. Cioè, minigonna forever. Mi sembra un bellissimo messaggio. Non so se hai anche tu una minigonna sul tavolo da sventolare, farci vedere il tuo simbolo. Comunque tu per noi sei tu. Sei tu. La nostra minigonna sei. Perché sei la donna che ci dà la libertà tutti i sabati sera. Grazie, Giovanna. Come sempre. Grazie. Grazie.